L'Eroi Merlin Giardinaggio Catalogo 2024 Vasi, Fioriere, Attrezzi ed Utensili Il catalogo di giardinaggio di L'Eroi Merlin per il 2024 si arricchisce di nuovi prodotti per soddisfare le esigenze dei clienti. Offre varietà di vasi, fioriere, attrezzi e utensili per il verde degli outdoor. Scopri le proposte di vasi esterni di L'Eroi Merlin. Tra i prodotti in evidenza ci sono il vaso palladio in terracotta, il vaso shabby in polietilene grigio scuro e il vaso mediterraneo in polipropilene tortora. Le fioriere da balcone e terrazzo nel catalogo L'Eroi Merlin sono perfette per portare il verde in piccoli spazi outdoor, inclusi articoli come la fioriera Roma in terracotta e la capiente fioriera Kebe Greener. Nel catalogo L'Eroi Merlin troverai attrezzi e utensili da giardino come forbici da potatura, cesoie pratiche ed efficaci e vari tipi di irrigatori. Questi strumenti facilitano le tue attività di giardinaggio.